Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Bartender Astle, un gioco che arriva dagli stessi sviluppatori di Metro Sim Astle, un gioco che avevamo portato anni fa, credo un mesi fa, adesso non ricordo quando, dove si amministrava la vita di un conduttore di carrozze della metropolitana, ora ci troviamo nei panni di questa ragazza che cerca di pagare l'affitto andando a fare la barista, la barman, insomma come si usa definire, qua possiamo andare a modificare spendendo soldi l'abbigliamento piuttosto che andare a sistemare la casa insomma o risolvere dei quiz e andare a guadagnare dei soldi anche con i quiz, insomma abbiamo servito dei cocktail, ho già lavorato, non inizio già dall'inizio, cioè solo dall'inizio ma ho già fatto la prima serata e ora mi ritrovo nella seconda, è una storia, viene guidata da delle quest e dove andiamo ogni volta a lavorare, a far carriere, insomma a lavorare in vari pub della città. Abbiamo già lavorato in questo stesso pub ieri sera, questa è la nostra proprietaria e noi dobbiamo pagare l'affitto quindi bisogna lavorare insomma. Ciao e mi piacerebbe di vederti, hai fatto bene ieri sera, abbiamo ricevuto le recensioni da parte dei clienti, sì ho fatto un buon lavoro ieri devo dire, ogni bar è una clientela unica quindi siamo una clientela eterogenea, ok cioè ci sono anche dei dialoghi, alcuni più assurdi di altri però insomma. Mi piacerebbe avverti a bordo se sei interessato a noi, quindi sto facendo carriera, quindi è un gioco guidato, molto chill, molto rilassante e che ricorda un pochino anche cooking simulator se vogliamo. Cosa posso portarle? un gin tonic, ovviamente prendendo tab avete modo di vedere la ricetta e il gioco ci indica anche cosa prendere, in questo caso prendiamo il ghiaccio, mettiamo il ghiaccio, dopodiché dobbiamo mettere due once di gin, che il gin io non mi ricordo mai dovrebbe ma dovrebbe essere evidenziato, ok due once di gin, quindi andiamo a metterlo con precisione, fermando in tempo, un po' come appunto cooking simulator, 4 di tonic, se sbagliamo poi lo consigliamo sbagliato, prenderemo meno mance, perfetto, una ruota di lime, ormai so già più o meno dove sono le cose e una cannuccia media, ok preso, fatto, consegnato e grazie, ci danno anche le mance, insomma, questa Anna, ciao, ciao tu, ci immerge in quello che è il bartendering nel senso che è anche il dialogo con il cliente, vorrei un fruit beer per favore, un fruit beer in arrivo, quindi tac, non conosco la ricetta, quindi andiamo a vedere, birra fruttata, quindi non è qua, la birra fruttata dovrebbe essere qua sotto, fruity, birra fruttata e la riempiamo fino all'orlo, perché dovrebbe essere un otto once, quindi andiamo, scende, c'è stato spiegato il primo giorno che questi spiller sono nuovi, quindi funzionano molto bene, ingredienti, corretti, ho tenuto la mancia, ne avevo bisogno, giornata lunga, sì, sono sicuro che puoi capirmi, se sei una barista, no, barista, no, caffetteri in fondo alla strada fa un caffè, prendo un cappuccino lì ogni tanto, ti saluto la prossima volta se ti vedo, qual è il suo bevendo preferito? Un cappuccino caldo, al chai, dose extra di caffè, espresso mi piace molto, quello si chiama di articiare, sporco? Sì, con una dose extra di espresso, non lo chiamiamo sporco, ma mi hai provato, beh, è una birra con dentro una shot di vodka, io non me ne intendo, insomma, vi dico che sono uno molto casalingo, quindi non me ne intendo, però sicuramente molti di voi lo conosceranno, quindi gli facciamo gli osch, al momento ho sempre questo bicchiero, ho servito il vino il primo giorno, anche un'oncia di vodka, che è qui, vodka, ho dei brutti ricordi, ok, e 7 di birra pale ale, ok, quindi andiamo a metterne 7, perché di base il bicchiere è da 8, quindi mettiamo 7, se non siamo, ok, precisi, senza ghiaccio, senza niente, servi, perfetto, 30 la mancia, wow, una cosa potente, va bene, te l'avevo detto, vuoi un bicchiere d'acqua per mandarlo giù, no, no, so gestire i miei alcolici, dicono tutti così. Allora, come si è finito a fare barista? Credo di aver finito il superiore, non sapevo cosa fare nella mia vita, ma c'è parte amici andava all'università, mia famiglia non aveva soldi, chiedere un prestito, ma non credo che faccia per me, mi piace il mio lavoro, lavorare in piedi, conoscere nuove persone, anche io lavoro in piedi, mamma mia. Vabbè, non lo so, va bene, il mio ultimo ragazzo è trasferito all'estero per lavorare in odontoria, in ogni caso aveva quasi mai il tempo libero per vedermi. Non ho frequentato molto il tempo di università, non ce l'avevo pensato, collega single da poco, potresti andare d'accordo, beh, penso che ti piacerebbe, ah sì, vuoi il suo numero? Certo, voglio dire, va bene, in realtà non sono abbastanza impegnato, finirei solo per fargli perdere tempo, ma grazie, va bene, va bene, nessuna pressione, che ne dice un altro drink, abbassiamo il livello, dai, sorprendimi, in arrivo, gli facciamo un sea breeze, bicchiere alto, tac, ghiaccio, tac, poi gli mettiamo vodka, due once, solo per lei, una e due, mamma mia, tre di succo di mirtillo rosso, tac, uno, due e tre, poi uno di succo di pompelmo, perfetto, ruota di lime e cannuccia media, solo per lei, tac, due di mancia, bene, lei che ha un aspetto così a cigno, cosa vuole da me? Barista, mi fa il boom drink, ci puoi scommettere? Cosa posso portarlo? Un Bruce, uno, un spruce beer, le faccio in fretta, faccio il tempo che ci metto, insomma, allora, ricettina, otto abete rosso, mamma mia, sono cose che non ho mai provato io queste, otto di abete rosso, beh, credo che quando arrivi in cima sia pronto, insomma, non credo che si possa sforare, infatti non va oltre, ok, grazie della mancia, probabilmente le mance sono una cosa che si usa molto all'estero, grazie alla nostra riapertura è venuta proprio ieri sera, infatti ieri sera era il primo giorno dopo un periodo di ristrutturazione, faccio parte del gruppo di tutte le commercianti locali, sono qui per aiutarvi, mi ha considerato l'implicazione dei contraccorpi per la sua attività se durante la notte scoppiassero un incendio in questo locale e danno già se la sua proprietà, probabilmente non mi influenzerebbe molto, sono sicuro che potrei trovare una volta dove che mamma mia che ho porto un isos da qui, se il dipendente fosse messo in pericolo, qualcuno lanciasse un mattone dalla finestra e mi andasse all'ospedale un ignaro cliente, non è questo che sarebbe la polizia, comunque sono troppo occupato dove pensare a questo, mi chiamo Troy e fare sapere che occuparsi di nuova sono qui per aiutarti, il pizzo vuoi? dirò al mio capo che è passato, ne consiglio di mettere in pratica il suo gesto, mi porti un godfather bicchiere corto, le porto il patrino, quindi ghiaccio, ghiaccio nel bicchiere bene, mezzo di whisky che è qui, no 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 non l'amaretto, dov'è? perché poi cambiano di colore, ecco, whisky scozzese, uno e mezzo, salve Lloyd, citazione ovviamente, no ho sbagliato, un pizzico ancora finché arriva a cinque, ok, e uno e mezzo di amaretto, e l'amaretto è qui mi dà già che va bene, ma io voglio la perfezione nel mio cocktail, perfetto, prego ah, scusi lei bene, lei invece, Jean Claude, la cozzone è fuori incessante, è vero, è tutto bagnato il vetro, non da se ne vuole cessare, ultimamente piove di rotto, non è vero? finché non avrò la mia guaina dermica metallica, dovrò proteggere la mia pelle umana primitiva dalla pioggia, ah questo è quello, mamma mia, questo è un critico, questo l'ho visto ieri sera, è una pigna, vabbè, chiedo dark and stormy, 08, questo è uno studente di robotica, una roba del genere, mi ragiona da robot, va bene, quindi sicuramente ci sarà il ghiaccio, aggiungere ghiaccio, 2D room scuro che è qui, cioè il gioco non è che si può fare una live o giocarci 20.000 ore, birra lo denzer è qui, 4, però è rilassante, e poi se siete appassionati, perché so che ce ne sono tanti di appassionati di questo tipo di gioco, o comunque di attività, perché poi c'è la storia da seguire e la carriera poi con l'evoluzione, infatti si arriveranno in posti in cui si chiede anche la patente insomma per vedere se siano maggiorenni per poter bere, diventa sempre più difficile. bene, romani, esagerare, vabbè lui parla da robot e va bene, vuole un Beybreeze, Beybreeze, quindi bicchiere alto, ghiaccio, uno di vodka, ok, su cui mi ritiro rosso che è lì, ho messo già dove sono, anche quella la conosco, ho visto ieri ed è una delle due sorelle gemelle, ok, due di succo d'ananas, uno, due, la vuata di limone, ok, qui, e cannuccia media. grazie, svetlana, ciao di nuovo, posso portare qualcosa, stasera è un tempo di chiacchiere, no, 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 va bene, scusa, un appuntamento, dove andrai? Di solito mi piace fare una passeggiata il primo appuntamento, ma non con questo, viaggio, andremo a un museo locale, c'è i dinosauri, faiati da bere, no, godmother, prima è godfather, adesso è godmother, quindi sicuramente se bevi qualcosa di raffinato, quindi ghiaccio, ok, poi vuoi uno e mezzo di vodka e amaretto, uno e mezzo di vodka, subito per lei, e uno e mezzo di amaretto, al momento non mi pare veniamo calcolati per la velocità, perfetto, e abbiamo concluso questa cosa, cocktail serviti 29, abbiamo 50 di paga, 19 di mance, 45 di spese di vita, ovviamente mangiare cose varie, abbiamo guadagnato bonus servizio impeccabile, abbiamo 84 in banca, proseguite la vostra carriera di barman, modalità storia, imparate a preparare una gran varietà di cocktail, bene, qua abbiamo tutto, ma non credo si possa fare granché, fate la tua letto, girare l'acqua e accendere la doccia e accendere il lavello, quindi allagare casa, il microonde vuoto che esplode, il forno acceso, va bene, dai, la televisione? Si può vedere? No? Sì? Tutto acceso lasciamo, dai, tanto chi se ne frega, e andiamo a dormire, e qui parte un altro tipo di, un altro caricamento che ci porterà in un'altra missione, salvataggio dei progressi, insomma il gioco va avanti così in sintesi, vediamo un attimo cosa succede, perché poi avremo opportunità di, adesso non so cosa succede se la vogliamo male, guadagneremo meno, però il gatto si sposta, allora vediamo un attimo, come si chiama questo cocktail? Eh, bubo, salty dog, no, black russia, niente, ma il sentimento è usato in questo cocktail, liquore al caffè perché è bello chiaro, eh infatti è giusto, 4 più per il bonus, no ho sbagliato, pezzo del barista, questo si chiama così, no, magic spell, eh mannaggia si vedeva anche, non è usato la cola, si vede perché non è scuro, eh questo è un mosco mio, eh vedete che io non me ne intendo, va bene, dai basta, basta, si va al lavoro, e si vede cosa succede questo giro, perché lavoreremo sempre lì e poi è un gioco che è un po' il senso che ha, nel senso che, da appassionati di questo genere lo fate però, è sempre lo stesso, Jean Claude, mie mie inizioni artificiali si vedeva all fashion, va bene dai facciamo anche questa giornata lavorativa, prendiamo questo, tac, ci sarà ghiaccio, whisky di segale, che è questo, due, aspetto, sciroppo di zucco, ovvero, che non so dove, eccolo qua, mai messo questo, quindi mezzo, no ho sbagliato, eh vabbè, e poi, amari aromatici, 0,2, perfetto, torsione all'arancia, come si chiama, ha dato meno mancia, però vabbè, a volte penso cosa significa essere umani, questo è un prodotto le palle, parlando con un robot, crede, vuole un John Collins, va bene, rifacciamo il colo, tutti che bevono, come pazzi qua, vabbè, ghiaccio, questo è bello, bello lungo, un, uno e mezzo di bourbon, bourbon con ghiaccio, salve Lloyd, uno e mezzo, uno succo di limone, cacchia, non so dove sia il succo di limone, però effettivamente, sarà qua, soda, no, no, la soda c'è, ce la metto, dai, ce la metto tre, uno, due, e tre, perfetto, poi, succo di limone, ok, uno di succo di limone, uno, ce l'ho preso che ho messo, soda, ciliegia, allora, ciliegia, la vuota di limone, la vuota di limone, qua si è stati un po' lenti, cannuccia media, credo abbiamo fatto tutto, no, vabbè, lo rifacciamo da capo, facciamo sto John Collins della menghia, allora, ghiaccio, poi andiamo in ordine, bourbon, uno e mezzo di bourbon, andiamo in ordine, così non sforiamo, uno e mezzo di bourbon, uno di succo di limone, succo di limone, uno, ok, poi, sciroppo di zucchero, sciroppo di zucchero, mezzo, soda, tre, ma infatti prima non era alto a livello, giusto, beh, ho sbagliato di uno, vabbè, ciliegia, la vuota di limone, e cannuccia media, stavolta ce l'abbiamo fatta, credo, anche se non è precisissimo, ma va bene. Anna, salve di nuovo, questa è quella della caffetteria, uno screwdriver, un cacciavite in pratica, vuole, va bene, le faccio subito il cacciavite, che cultura mi sto facendo? Allora, il ghiaccio, due di vodka, uno, due, e poi il succo d'arance, quattro, un goccino ancora, ok, la vuota arancione, e una cannuccia media. Perfetto, adesso si metterà a parlare, ne vorrà un altro, non ho iniziato da molto, non ho visto tutta la gamma, mi chiede se preferisco qualche cliente piuttosto che altri, piacciono i suoi colleghi, sì, siamo una squadra di stelle, ok, già chi chiacchierò, ci sta presentando, adesso io non vi spoilerò la storia, ma sta parlando del suo lavoro alla caffetteria, è al senso dell'umorismo, non ho preso a calci nessuno, va bene, dai, prendi un Malibu, ok, il Malibu è uno delle poche che conosco, allora, mettiamoci il rum al cocco, sarebbe in sintesi, lo scopri a 16 anni, due, un goccino ancora, ok, poi, due di succo di mertrilo rosso, due succo d'ananas, una ciliegia, intanto c'è già un cliente che mi mette ansia, che aspetta, cuneo dell'ananas, che non conosco, non so dove sia, vediamo se lo trovo, vediamo se lo trovo, dove è sto cuneo, eccolo qua, cuneo dell'ananas, cannuccia media, e ombrello da cocktail, ottimo, ah, possiamo, vuole giocare a Thais, va bene, pareggio, è un gioco stupido, perché, no, questa è la capa, come va stasera, benissimo, mi sto li attendo molto, devi già andare a giocare a golf, no, non ho ancora, il servente un tizio di no metà, hai detto qualcosa sul lancio di mattone alla finestra, o si fa il giro dei bar del quartiere, piace pensare di essere una specie di mafioso, ma innocuo, ah, ok, Jean Claude, al cliente abituale, qual è la sua storia, è piuttosto ricco, passa il giorno da costruire parti, per l'aumento di esseri umani, si, di fare un buon lavoro, se continua a tornare, cosa posso portarti, anche la proprietaria beve, ma lei non pagherà, ci paga già a fine serata, va bene dai, ah, Pail, ok, bevi una birra, ma secondo me non bevi solo questo, qua posso tenere premuto, senza problemi, perché tanto non esce, è già giusta, la birra è facile da fare, prego, sono contento di dire, tu la birra la compri tu, ok, l'accendino, sarebbe preparare i coctuoli infocati, ok, vedete che poi il gioco diventerà più complicato, Jean Tonic, in arrivo, poi faremo carriera, andremo in luoghi sempre più prestigiosi, 2 di Jean, sbagliato, niente, voglio buttarlo via, vabbè, gliela darò sbagliata la capa, vediamo cosa succede, la Tonic, quattro, vuoto di Lime, e cannuccia media, non scherzi, i miei momenti, domani sera, arrivere a un barista, le prime amiche, prendere altro posto, cosa domani sera, io non mi stavo nel tuo posto, hai chiuso con me, non ti preoccupare, mi serve un barista solito, per la nuova bireraria, aperto in fondo alla strada, tu sei perfetto, sei interessato? sì, davvero, quando posso iniziare? domani sera, disponibile, avrei bisogno di te, anche per il turno di noto, abbiamo poi, ti monterò, lo paga, ah ok, li abbiamo rivolto male, pensavamo stesse per licenziarci, invece andiamo avanti, giustamente, allora dai, facciamo questo, penso sia l'ultimo, allora, Borbon, uno e mezzo, uno succo di limone, cacchino mi ricordo, è il succo di limone, qua, succo di limone, uno, ok, mezzo di sciropoli di zucchero, abbiamo già fatto questo, mezzo di sciropoli di zucchero, ho sbagliato, tre di soda, no, non abbiamo fatto questo, sì, sì, l'abbiamo fatto, uno, due, e tre, ciliegia, questo l'abbiamo fatto prima, ciliegia, dopo altre limone, e cannuccia media, a salute, bene, cinquanto, abbiamo cento dollari sul conto, dopo tre giorni di lavoro, non faremo i soldi, andando avanti così, quindi spero che, possa cambiare, insomma, capitolo due, shooter, e qua si va avanti, andando, probabilmente nell'altro locale, con i cocktail infuocati, quindi aumenteranno, le cose che dovremmo fare, non è un gioco difficile, assolutamente, è un gioco rilassante, insomma, se volete andare avanti ogni volta, con una giornata lavorativa, non so, dovete ammazzare il tempo in qualche modo, questo può essere un gioco, che fa per voi, graficamente carino, mi sembra ottimizzato piuttosto bene, insomma, è un simulatore di vita, ecco, quello che volevo dirvi, ragazzi, fatemi sapere, che cosa ne pensate, questo torno ai commenti, quindi, dicevo, li può valere, beh, se siete appassionati, secondo me, sì, grazie a tutti,